Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca ancora una grave incidente sul lavoro in provincia di Arezzo. Attorno alle 15 un uomo di 59 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri in un'azienda di Cavriglia. Sul posto i sanitari dell'emergenza e urgenza ha attivato anche il Pegaso che ha preso in carico il ferito trasportandolo in codice 3 il più grave all'ospedale di Careggi. In azienda anche il personale dell'Asla, prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E la polizia di Stato invece ha individuato e denunciato l'uomo che aveva esploso alcuni colpi di pistola dopo la vittoria di Porta Crucifera alla giostra della Zaracino. L'episodio, accaduto davanti alla sete del quartiere, era stato immortalato da un video. Poi, diffuso sui social, nelle immagini si vedeva sollevare in aria la pistola ed esplodere 5 colpi. Le indagini, portate avanti dalla squadra mobile di Arezzo con il concorso del personale della Digos, sono riuscite a risalire all'autore della gesto. Si tratta di una 55enne che dopo essere stato sottoposto a perquisizione ha consegnato spontaneamente l'arma, una pistola salve comunemente detta scacciacani. E adesso ci spostiamo in Valdichiana dove invece i carabinieri hanno denunciato due truffatori che avevano raccolto soldi per sponsorizzare una torneo di calcetto fantasma. Sarebbero riusciti a convincere un commerciante a sponsorizzare un torneo di calcetto ma una volta inchiassati i soldi sono scomparsi nel nulla. Per questo due persone, un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Camucia. Il raggiro circa sette mesi fa, quando la donna, residente in provincia di Siena, aveva contattato telefonicamente un ristoratore cortonese. La 35enne gli aveva spiegato che si sarebbe svolto un torneo di calcetto convincendola di investire in una sponsorizzazione 1.500 euro in bonifici su una carta post-pay Evolution. Incassati i soldi però, la donna è scomparsa e l'imprenditore non è più riuscito a rintracciarla. Compresa la truffa, il ristoratore si è rivolto alle forze dell'ordine che hanno dato avvio alle indagini. I militari hanno appurato che la carta sulla quale era stata accreditata la somma era intestata alla 35enne. Poi, basandosi su tabulati telefonici, i carabinieri sono riusciti a risalire anche il complice, un quarantenne di grosseto. Per i due è scattata la denuncia per sostituzione di persona e truffa continuata aggravata in concorso. Ancora cronaca, questa mattina uno scontro tra auto dove sono rimaste ferite tre persone, due uomini e una donna, trasportati all'ospedale San Donato di Arezzo. È successo alle 10.30 in via Fratelli Rosselli, tre appunto e feriti, due uomini di 78 e 77 anni e una donna di 79, tutti trasportati in codice 2 all'Azzan Donato. Un altro incidente, poi a Sansepolcro, un'auto contro una moto in via Filippo Brunelleschi. Il motociclista di 45 anni è rimasto ferito, soccorso con ambulanza infermierizzata, è stato poi portato con l'elissocorso Pegaso all'ospedale L'Escotte di Siena in codice 2. E adesso voltiamo pagina, questo pomeriggio all'ospedale San Donato di Arezzo, una delegazione ligure in visita alla Delirium Ruma. Visita di una delegazione ligure alla Delirium Ruma dell'ospedale San Donato di Arezzo, la stanza per ritrovare la pace, quella ad Arezzo, la prima in Toscana. Oggi dimostriamo che il servizio sanitario pubblico ha davvero una marcia in più. La marcia della competenza professionale, la marcia dell'investimento tecnologico, la marcia dell'organizzazione e del confronto fra realtà diverse. Si tratta di una stanza per accogliere i pazienti in stato confusionale acuto, demenza senile e anche i loro familiari. È attiva ormai da quattro anni. L'importanza di questa stanza è quella di ridurre la terapia farmacologica con antipsicotici nei pazienti anziani. Questo con una stimolazione sensoriale. Arredi domestici ed ambienti studiati su misura, dalla musicoterapia alle colonne con bolle d'acqua, dalla cromoterapia ad una culla per accogliere in sicurezza il paziente. È in qualche modo strutturata come fosse un ambiente familiare. Infatti si cerca di mascherare tutte quelle che sono, tipo la presa per l'ossigeno, la flebo, eccetera, in modo da dargli un'idea di essere come a casa. La Delirium Room non ha volutamente niente di ospedaliero, si trova infatti a pochi passi dal reparto di geriatria. Qui il familiare ha il ruolo vero del caregiver, cioè riceve le informazioni da noi e poi chiaramente si comporta di conseguenza all'interno della stanza. Al momento l'unica struttura simile in Italia è al Sant'Orsola di Bologna, ma adesso la realtà potrebbe essere replicata anche in altri ospedali. Ancora a sanità, sempre all'ospedale San Donato di Arezzo, arriva una risposta ambulatoriale dedicata alla cura dei disturbi da deficit di attenzione e iperattività per adulti all'interno dell'ospedale. Un progetto che consentirà ai cittadini residenti nell'area vasta di usufruire di valutazioni specialistiche mirate all'interno del servizio pubblico. Sarà anche possibile la prescrizione dei farmaci generalmente impiegati nel trattamento di questo disturbo, anche se non sempre potranno essere dispensati a titolo gratuito nel rispetto della vigente normativa nazionale. Stia invece è diventata per un giorno la capitale della silvicoltura regionale. Vediamo perché. Bisogna promuovere la cultura del bosco, la coltivazione, il taglio, l'uso del legno e di tutti i prodotti del sottobosco e bisogna favorire le imprese forestali, le imprese boschive affinché rimangano in questa attività e sviluppino tutta la filiera affinché trovino un reddito adeguato per continuare nella loro attività. È un appello chiaro a quello che arriva da Prato Vecchio Stia per un giorno capitale della silvicoltura regionale. Il bosco sta crescendo in maniera importante e sta creando anche, inizia a creare dei grandi problemi se non viene gestito dal punto di vista del rischio del dissesto del geologio e dell'opportunità purtroppo di creare incendi. Operatori e istituzioni riuniti da Cia Toscana, le officine Capodarno si sono così confrontati nel comune simbolo di alberi, foreste e gestione sostenibile del territorio. Tutti insieme per parlare anche di norme che regolano il settore norme che devono essere chiare e precise e non lasciate all'interpretazione soggettiva di nessuno perché le imprese questo chiedono, certezza nella norma imprese peraltro che esprimono nel territorio una grandissima professionalità professionalità non soltanto nel campo ambientale quindi nella gestione stessa appunto del bosco ma anche nella gestione dei cantieri forestali che devono essere portati avanti con estrema attenzione alla sicurezza di tutti gli operatori. Un settore strategico in una regione come la Toscana dove il 50% della superficie è boscata. Noi come regione Toscana dobbiamo avere l'impegno abbiamo l'impegno per cercare di rafforzare questa presenza umana sul territorio e nelle zone montane per dar modo che queste attività forestali diventino veramente e restino veramente un patrimonio delle comunità locali. Una storia a lieto fine, quella di Bubu, l'amico a quattro zampe di Tiziano Birra, il clochard che due mesi fa era stato trovato senza vita il cane adesso ha una nuova famiglia ed è potuto uscire dal canile. A due mesi dalla scomparsa di Tiziano Birra il clochard trovato senza vita lo scorso luglio il suo cane Bubu ha finalmente trovato una nuova famiglia Tiziano e l'amato amico a quattro zampe, un meticcio di due anni vivevano in simbiosi all'interno della roulotte parcheggiata nel resede di una scuola in via 25 Aprile era stato proprio il fedele compagno di vita a lanciare l'allarme e a far trovare il corpo senza vita dell'ex falegname svizzero che da oltre dieci anni aveva scelto Arezzo per vivere Bubu, dopo la morte del clochard, stroncato da un malore era stato affidato alle cure dell'empa nei giorni successivi le richieste di adozione non erano mancate ma nessuna si era poi concretizzata adesso finalmente una famiglia a retina ha deciso di adottarlo e prendersi cura di lui per Bubu inizia così una nuova vita abiteranno lontano dal quartiere in cui ogni giorno si recava proprio con Tiziano e dove tutti lo conoscevano Sarà una vera festa sabato 16 settembre ad animare il Parco Pertini con la manifestazione Un Sorriso per Arezzo un evento finalizzato alla divulgazione di valori sociali e la raccolta fondi a favore del Calcit avrà tra i protagonisti assieme a Geronimo Stilton il topo scrittore una serie di realtà sportive a retine presente anche il mondo della giostra della Zaracino e la polizia di Stato e dalla 9 all'11 settembre invece in centro storico come ogni anno torna la fiera del Messolo in virtù della manifestazione la pedonalizzazione di via Roma e via Crispi che sta caratterizzando i weekend estivi fino alla fine del mese è prevista solo per il venerdì dunque tre giorni di fiera con oltre 250 banchi di ambulanti e commercianti e sabato 9 settembre ai Bastioni torna anche la tradizionale offerta del Messolino del Calcit iniziativa avviata a seguito della partecipazione al Guinness World Record nel settembre 1999 con il Messolone più grande del mondo il ricavato dell'iniziativa sarà destinato al servizio scudo Lucignano invece è pronta ad ospitare il 15esimo Festival dei Borghi più belli d'Italia l'iniziativa più importante dell'Associazione Nazionale che è in programma da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre tre giorni con dibattiti, promozioni, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi vera e propria miniera di vivibilità e sostenibilità per il presente e per il futuro e restiamo ancora in Val di Chiana secondo posto infatti per Scannagallo al concorso internazionale la bellezza e l'eleganza della donna nella Medioevo e il Rinascimento la manifestazione giunta alla 22esima edizione è inserita all'interno della Palio Città di Pescia e ha visto l'associazione con sede a Pozzo della Chiana presentare un abito da popolana toscana che ha trovato il consenso della giuria per la fedele e attenta ricostruzione di ogni singolo dettaglio in Val d'Arno invece è tutto pronto per la prossima edizione della Marzocchina il 9 e 10 settembre il Val d'Arno Aretino e Fiorentino vivranno l'undicesima edizione della Marzocchina una ciclo storica molto attesa, molto partecipata e quest'anno con tante novità Partirà domenica prossima alle 9 da Piazza Capura a San Giovanni Val d'Arno davanti a Palazzo d'Arnolfo sarà presente a dare il via a quest'undicesima edizione anche il presidente della regione Gianegiani perché la regione toscana patrocina l'iniziativa da qualche anno, siamo molto orgogliosi è una ciclo storica che è nata a San Giovanni e che poi si è allargata da altri comuni Cavriglia e Figline Incisa, per noi è un onore perché ci permette di far conoscere il nostro territorio a tutti quelli che partecipano a questa manifestazione Due i percorsi da 22 e 50 chilometri studiati sia per i meno che per i più allenati tracciati che si snodano nel cuore del Val d'Arno tra Rezzo e Firenze, chilometri di strade bianche Questo tipo di manifestazione ha preso veramente campo e ha preso campo soprattutto in Toscana quindi io dicevo non a caso in Toscana ma soprattutto in Val d'Arno, San Giovanni e Val d'Arno perché qui passa la storia di ciclismo, qui passa la storia ciclistica nazionale insomma qui si respira e si è sempre respirato ciclismo La manifestazione si suddividerà in tre eventi, la classica ciclo storica, la marzocchina a piedi e una camminata che dal centro di San Giovanni porterà i partecipanti all'interno dell'area mineraria e la marzocchina Classic Cars con auto d'epoca È l'undicesima edizione ma è nove anni che siamo più che sponsor un partner dell'evento partner perché mettiamo a disposizione questa importante area, l'area mineraria di Santa Barbara che per le caratteristiche ha un oasi naturalistico è altamente evocata alle manifestazioni cicloturistiche I ciclisti anche quest'anno avranno modo di apprezzare l'area con 50 km di pista e non solo, anche chi si vorrà inoltrare a piedi potrà seguire tutti quanti i percorsi Iniziativa che rientra pieno in quelle che Enel fa su tutto il territorio di turismo sostenibile e speriamo appunto che aumenti sempre di più questa partecipazione e che nel momento in cui verrà restituita l'area al territorio oramai siamo prossimi a determinate attività e verrà comunque preservata per tutte le caratteristiche ambientali che ha attualmente Calcio femminile, le Amaranto domenica 10 settembre affronteranno la Lazio nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia La partita si disputerà sul campo di Cassiglion Fibocchi con calcio in inizio alle 15 Il nuovo format della competizione esordisce proprio in questa stagione e vede la squadra con un ranking migliore affrontare l'avversario con una classifica più bassa in trasferta Le Amaranto per passare il turno cercheranno di averla meglio sulla compagine bianco celeste al termine dei 90 minuti regolamentari oppure al termine degli stessi dopo i calci di rigore Il turno si disputerà infatti in gara secca e la formazione vincente affronterà al prossimo turno l'Inter Formazione che partecipa alla campionato di serie A E proprio sempre in merito di calcio femminile andiamo a conoscere meglio una calciatrice Amaranto Isotta Nocchi Io ho giocato con la CF Firenze fino a 17 anni arrivando in prima squadra in serie A esordendo in serie A 16 anni e poi la Fiorentina comprò il titolo sportivo della CF Firenze e quindi divenne Fiorentina Women e poi stetti con la Fiorentina col cartellino fino a 25 anni ma andai in prestito alla Florentia sempre in serie A e poi veni anche qui ad Arezzo quando avevo 21 anni, feci un'esperienza in serie B infatti quest'anno sono tornata per così dire Quello di Isotta Nocchi è così una sorta di ritorno al passato infatti sempre nel campionato di serie B nella stagione 2016-2017 aveva già vestito la maglia del cavallino quell'anno mise a segno 11 gol in 23 partite Io mi trovo bene sia giocare centralmente come Falso Nueve tipo Mertens quindi chi viene incontro si gira e manda in profondità gli esterni o appoggia per i centrocampisti ma mi piace anche andare a giro per il campo per così dire quindi cercare lo scambio con gli esterni L'attaccante classe 96 ha firmato con l'Arezzo calcio femminile sino al termine della stagione Un bel gruppo, ora è passato appena un mese ma la squadra è molto giovane sono ragazze che hanno tanta voglia di fare, di mettersi in gioco, di dimostrare quindi l'appilla è quello giusto per così dire e non mi sembra che ci siano ancora... cioè non ci sono problematiche di nessun tipo adesso stiamo bene insieme e la società non ci sta facendo mancare niente quindi questo è un grande presupposto per far bene, per lavorare Una passione è quella per il pallone nata da bambina Io all'elementare giocavo insieme ai miei amici in ricreazione e poi quando finiva scuola andavamo sempre al parco a giocare a calcio quindi sempre qualcosa che ho avuto sempre dentro Questa passione dell'agonismo dell'atleta comunque è una cosa che c'è dentro il sangue e che ho sempre lottato per portare avanti e per riuscire a stare ad alti livelli quindi sono molto orgogliosa del percorso che sto facendo e che ho fatto e che comunque mi ha portato via tante cose nel senso che è un percorso di sacrifici come tanti altri percorsi ma comunque è un mondo bellissimo quello dello sport e sono contenta di farci parte Passiamo alla basket Prende il via la campagna abbonamenti per l'AMNBC Servizi per il campionato di Serie B 2023-2024 Sarà un'occasione per tutti i tifosi per sostenere la squadra e vivere da vicino il nuovo campionato di Serie B che prenderà avvio domenica 1 ottobre Le partite casalinghe della squadra di coach evangelisti si svolgeranno al Palace Portestra Mario Dagata la domenica pomeriggio alle 18 con il calendario delle partite che sarà ufficiale la prossima settimana Gli abbonamenti avranno accesso a tutte le 11 partite della prima fase e alle 4 della fase ad orologio per un totale di 15 incontri Questa per stasera era l'ultima notizia Vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci Grazie 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 Grazie.